Allora, seguo insieme a voi questa farsa degli ultimi minuti di questa partita farsa. Vedete, io penso di avervelo detto una settimana fa, sapevo perfettamente come sarebbe andata questa partita. E il guaio, che penso lo sapessero in tanti, penso che chiunque abbia un attimo di… non di cervello, ma chiunque abbia visto, abbia capito, abbia… Guarda, guarda com'è. È veramente tutto… è veramente… passa la voglia. Ho fatto tanti video… ecco, finisce qui la farsa, guarda, guarda. Di clamoroso non c'è niente, amico mio, di clamoroso non c'è niente, amico mio. Bugiardo, non c'è nessuna sorpresa, non c'è nessuna sorpresa. È una settimana che io dico come finisce sta partita, non c'è nessuna sorpresa. Vergognatevi, vergognatevi a propagandare queste cose, vergognatevi, vergognatevi, mi dicevo ovviamente con quelli che adesso faranno finta grande impresa, clamoroso. L'avete sentito, clamoroso, sorpresa. Ma quale sorpresa? Ma quale sorpresa? Mi spiace per le squadre che lottano insieme contro questa… Lasciamo perdere, ma lasciamo perdere. Ma non vale la pena, non vale più la pena ragazzi. È veramente fastidioso. Io stesso, mi spiace per un allenatore come Ranieri che è persona seria, persona che merita tutta la stima e l'affetto del pubblico. Mi spiace per l'Empoli, mi spiace per l'Empoli. Ma era un film già visto, era un libro già scritto. Sono molto amareggiato. Perché oramai, non lo so se capita anche a voi, non so, a me capita. È come vedere le cose e non poter far nulla, capito? C'è le lì davanti, le vedi, le vedi tutte, ti scorrono davanti, ti sono… Le hai viste per tutto l'anno, le hai denunciate, le hai raccontate, le hai… però tutto passa, tutto passa, tutto succede come deve essere per qualcuno e tu devi solo guardare, osservare, fare finta di stupirti, fare finta di essere sorpreso, come ha fatto il telecronista di Dazon, clamoroso, sorpresa, incredibile. E ragazzi, io non so se valga la pena ancora… qui siamo peggio che nel… non lo so, mi sembra che questo calcio italiano oramai che stia dando veramente il… il peggio di sé e… insomma… io non lo so se valga la pena ragazzi, sinceramente. mi immedesimo un po' stasera nei tifosi del Cagliari, dell'Empoli, dell'Udinese… e li capisco, e li capisco. Altronde, oramai le cose sono andate troppo oltre, troppo oltre, lo vediamo… lo vediamo sotto tanti punti di vista, no? L'abbiamo visto negli incarichi, nell'ostentazione di questa… del fatto che c'è un uomo che va sempre… si è dalla sua parte sempre, è Infantino dalla sua parte, Ceferin dalla sua parte, è Viglione dalla sua parte, sono tutti dalla sua parte, no? Carnevale… come si chiama quello? Carnevali, Carnevale… è dalla sua parte. Ora, mi aspetto qualche altro bel giovane della primavera dell'Inter, che vada a rinforzare questa squadra sassuolese, soprattutto se dovesse rimanere a riuscire, grazie a questa vittoria, a rimanere in Serie A. mi aspetto che gli squinzi acquistino un altro bel giovane, forte, come Mulattieri, zero gol in campionato, e poi magari così, un'altra trattativa a stile frattesi, no? Quello che mi fa incazzare veramente è che, ve dico prima, di Taremi ve l'avevo detto l'anno scorso, del Sassuolo ve l'ho detto subito la settimana scorsa, del Sassuolo Inter ve l'ho detto subito la settimana scorsa, però è un muro di gomma, perché cercheranno di girarci attorno, erano scarichi, le feste, la pancia piena, e il turnover. Ragazzi è un momento storico purtroppo che è così, le cose sono lì da vedere, ma nessuno interessa guardarle, nessuno interessa approfondirle, nessuno interessa capire che questo calcio italiano, se non si fa qualcosa, se non si interviene, non lo so, se si fa tutto questo per salvare qualcosa che è insalvabile, non lo so, non lo so. Sta di fatto che, insomma, un conto va bene, sapere cosa succede, però farsi anche prendere in giro no, quindi lasciate stare per favore di venire nei commenti a dirmi le chiacchiere, no? Eravamo stanchi, la pancia piena, evitate per favore, se no blocco, se no blocco, perché va bene vedere, cioè avere una visione ma non poter far nulla, già è abbastanza frustrante, però anche prese per il culo, no, no, va bene così, va bene così, va bene così, ci sarà un altro giovane che andrà a rinforzare le fila della squadra di carnevali, ci sarà qualche altra trattativa, com'è che le chiamano, fantasiosa, come le chiamate? Cosa vi devo dire? Sono amareggiato, sono amareggiato, sono molto, molto amareggiato, perché perché non mi sta piacendo nulla di questo calcio, non mi è piaciuto nulla di questo campionato, non mi sta piacendo tutto ciò che gira attorno, non mi sta piacendo la propaganda, non mi sta piacendo veramente niente, non mi sta piacendo neanche il fatto che non si riesca a individuare il problema e noi roviniamo magari, oggi sono un po' amareggiato anche per come abbiamo trattato Pioli, forse proprio non lo meritava di essere trattato così, al di là della conferma o meno, e noi ci focalizziamo su queste cose, senza guardare cosa in realtà abbiamo davanti, senza guardare in realtà quello che succede, le cose da vedere, i conti che sono lì da vedere, il presidente sparito, che purtroppo quello non possiamo vederlo, gli uomini messi in ogni posto, in ogni dove, i rapporti, ragazzi scusate, sono amareggiato, quindi prometto, domani mattina parliamo d'altro, perché sennò veramente viene voglia di chiudere, mi spiace, mi spiace per i tifosi del Cagliari, i tifosi dell'Empoli, i tifosi dell'Udinese, mi spiace molto per voi, però a chi tocca non si ingoce, perché tanto nessuno fa nulla, nessuno dice nulla, tutti fanno finta di niente, e tutto prosegue così, io faccio il mio, faccio quello che posso, ma più di così non posso fare.